Benvenuti in questo nuovo video di Minecraft Quest'oggi è il Lucky Race A tema Five Nights at Freddy Ma c'è una particolità Quando arriviamo alla fine della gara dobbiamo affrontare due boss Ovviamente di FNAF e sconfiggerli Il primo che lo sconfigge vince la gara E sarà super divertente Pronta andiamo via Allora mi prendo dei blocchi Mi prendo delle mele, mi prendo i checkpoint Poi mi sistemo il piccone qua I blocchi qua, il checkpoint qua, il cibo qua E sono pronto, via Io ho già scelto qua Vado sul classico, perché no Una pozione Ho trovato un altare Perè Bello il tuo altare È una mystery potion, vuoi vedere cosa fa? Proviamo cosa fa Ha ceccato, rallentato Messa fame Ma pure io, perché me l'ho tirata pure addosso Non è scattato la mia corsia perché sono lettizia Ho trovato una checklist Wow, cosa ci scrivi? Sono delle cose di Five Nights Fere, Bonnie on main stage Foxy on stage Aiuto che ansia Ok Fere ma dura No, tu sei veramente imbarazzante Sono 40 secondi cieco per colpa tua No Steph Bellissimo quello che ho trovato Lo potrei vedere se non fossi cieco Ho trovato Fere ho un problema Steph stai fermo Credo Sono morto No, vai via Mi serve un'arma No, 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 no Allora ci sono dei mostri invisibili Penso che siano delle sorte di zombie Ma io non ho armi Il mio problema è quello Oh È terrificante Ma Hai caduto un fiore Allora ho perto un lucky block Che mi ha instant shottato Perfetto Questo per far spegnere la lava Ok, tutto bene Una pizza Tutto bene lì, sì No, per niente Ok, a posto Allora Bene, così Andiamo Steph Ah, dimmi 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 Ho trovato un microfono Sono appena morto Oh, però fa Ah no No, effettivamente no Non ci posso credere Sì Anzi fa 6 di danno Quindi il microfono Dai ma sta lava è una rottura Io sto affrontando la lava più strana che ho mai visto No, 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 no Continuo a scendere Arrivo Mi sta facendo perdere Ah, l'ho già vista Arrivo Arrivo Guardatela là Arrivo Guarda come corre Guarda, guarda Guarda, guarda Ho trovato anche il microfono Lo vuoi il microfono di Freddy? No Ne ho tu Cos'è questo oggetto? Mi sei gentile e te lo regalo perché fa 6 di danno Wow Dove sei? Ho trovato una console Ma questo sto andando avanti senza di me Gli dico, aspetta un secondo E dei biscotti Ciao Adesso faccio prima buttarmi perché così poi torno nella mia corsia molto più velocemente Una pizza Oh TNT Bello Ho trovato una spada Ok Quanto sono potente rispetto a fare Cos'è questo? No Ho trovato un piccone Il Chica Buddy No Ho trovato anche i cereali di cui parlavi Ok Le hai visti i cereali? Sì Sono bellissimi Ma Aiuto Ho trovato una barca Ho trovato un osso No vabbè Un sacco di barche che mi hanno spinto di sotto Va bene Ok Il Jukebox Bellissimo Chica Speedy Boots Va bene usiamoli Oh un po' troppo Speedy Cos'è sta roba? Ho trovato uno dei pupazzi di FNAF Stef Ho trovato anche i piedi e le gambe Guardali Mi vedi? Più o meno Adesso mi manca solo il torso Ho trovato tutto No È un po' lontano Che cos'è sta roba? Non lo so No Lo vedi? Non lo vedo Ma è lo zombie che vola? No Allora praticamente mi è comparso un mostro di Freddy Ah si è messo nelle barche Ok ho capito Si è messo nella barca e l'ho sconfitto così No il Ravager no Sono morta Sono morta Uuuuh bello Come faccio amici? Però solo più uno di armor ci capite Consolini ma datemi la vostra forza Un esercito di Ravager Bro Calmo Allora questi piedini sono un problema gigantesco della mia vita Volete andarvere signori? Mi state dando fastidio Ora è fere normale Mi sembrava strana Che miseria Se ci pensate non si stava lamentando Non stava urlando Allora c'è un Ravager che mi sta camperando Vedete è tornata lei Fatene Vai muori 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 Secondo me Ti devo dire una cosa I consolini Vorrebbero vederti giocare a FNAF Security Breach No secondo me no Si 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 No no secondo me no Non so Infatti ci sono bene i commenti Perché secondo me Ragazzi io non posso giocare gli horror Ma la faccio sotto Lo vorrebbe fare No 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 secondo me Poi allora c'è il problema Che io non ho giocato gli altri Quindi poi non capisco nulla Eh vedi ho la scusa pronta Non lo so faccio decidere i consolini Allora io ho un problema Forse Forse Dipende da cosa ne pensano Vediamo sentiamo Ho un problema enorme con i miei stivaletti Che mi fanno correre di più Il che vuol dire cadere da solo tutto il tempo Ok si Cioè non ha nessun effetto positivo Questa mia corsa maggiorata Vai via vai via Vai via via Ok Stef I mostri di FNAF sono terribili Terribili? Ti sciottano Ma ti sciottano Ma tanto? No ti viene da vi Ma aiuto Fere Ma incredibile Ho trovato un cane che mi difende E il cane ha ucciso Il Foxy Ok Il mostro di FNAF L'ha ucciso Mannaggia a me E a tutto quello che faccio Basta 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 Andiamo cagnolino Sei fortissimo Ad un certo punto Nella vita Devi dire Basta Stai citando? No No Mi son tolto gli stivaletti Ok Sono una sciagura Non li uso più Basta Allora Ci sta Mi serve un altro checkpoint Ce lo mettiamo qui Ok io Ho trovato l'akita Stupenda No l'hai trovata No Bellissimo È stupenda No forse lo trovo solo io Perché ho il lucky block di Freddy Ma io trovo costantemente un Freddy Che mi washotta e mi urla nelle orecchie Tutto il tempo È antipatico? Muori 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 Teleport stick Non funziona Vabbè ma che dita brutta che c'ho oggi Cosa mi sta accadendo? C'è una sfiga Sembra quella di Fere Sembra Infatti stiamo andando più o meno alla stessa velocità Vedete che siamo perfettamente Nello stesso studentico punto Perché sto qua che mi campera la vita Cioè se io vado alla stessa velocità di Fere Vuol dire che qualcosa non va Io scappo Qualcosa non No 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 un altro Freddy no però Basta Cosa sei? Non mi piaci? Mi metto un checkpoint qui e vi fate una vita Varrangi Fammi mettere un checkpoint Porca Perché non li posso posizionare qua? Forstoi Staff Eh? Ok che c'è una zona in cui non puoi mettere i checkpoint Hai visto? Sì No pure È molto brutta questa storia Fere È molto brutta Ok Anche perché hai visto che c'è il dropper? Sì Però l'ho fatto Credo Davvero? Sì Però tutta questa terra non mi fa mettere i checkpoint Io non posso fare una zona intera senza checkpoint Uh Bello No però Ho trovato finalmente il torso di Freddy Il problema è che ho perso la testa perché si è rossa Hai perso la testa? Sei impazzita? Sì anche No un altro Freddy pazzo no Opla Allora Sapete come si dice? Mettiamo il turbo Let's go Andiamo È il momento di dimostrare a Fere Chi vincerà questa lucky race Poi non è colpa mia Non si possono mettere i checkpoint Io mi arrabbio ok? Ma Staff Cioè il problema è che io non posso neanche Salire qui Ah no ecco ce l'ho fatto Sì no lì li puoi mettere Sono solo i blocchi di terra Sì li ho messi di lato E quindi sono riuscito a salire Aiuto che paura Era terribile quello L'avete visto? Ok Via basta Non ti voglio più vedere È forte 8 attack damage Quindi sì sicuramente meglio del microfono Fere ma tu c'hai la tua spada migliore a 8 Sì Per la mia 70 Allora Staff che ti devo dire? 70 Che ti devo dire? Non è colpa mia Non trovo nulla No Capo Corro Corro Porta uguale Porca miseria Corro Non devo morire No dai mi si è rotto tutto Quando devo rifare le strade È la cosa peggiore della mia vita Ma quelle bombe io le voglio però Con la forma di cuore? La cica eppo Ah ma è una mera allora Eh no noi abbiamo cose diverse ovviamente Ok Allora Wither Te la fai una vita Io non le voglio dire queste cose Per me le fa dire Ok Allora Wow Quanto manca alla fine secondo te? Ma che ne so Perché secondo me è ancora troppo Ho matato Wither Sono potentissimo Questa roba no Non mi serve Sono potentissimo Ok Da questa parte Poi da questa Ah Ok Ok Vabbè praticamente comunque ora per morire Ci sono poche cose che mi possono far fuori Ma veramente poche Bene mi sembra la zona finale Perché c'è un tubo Lo vedo anche io Eh quella è la zona finale secondo me Ok No di nuovo un altro Freddy Cadi Cadi da solo ti prego Let's go Cos'è stato? Cos'è stato? Steph ha esploso un lucky block E letteralmente sono comparsi tutti i mob O stili di Minecraft esistenti Tutti Ghast Ravage Tutti quelli che ti possono venire Mi sembra una cosa divertente E stanno litigando tra loro Ma anche quelli pacifici Perché vedo un panda No panda scappa Che bellino Una mushroom cow Ma li vedi? Non è bellino per niente Tu non sei bellino per niente Allora Ma cosa Cosa mi sta tenendo Cosa mi sta uccidendo? Cosa Povera Fere No Fere Sei stato tu Fere devi smetterla Non mi piace Non posso andare avanti Mi sono rotta l'estate Fere non mi piace questo atteggiamento Basta Mi state uccidendo Basta Basta Quando è troppo Troppo Allora uccidiamo Basta Porca miseria Ok non è poco più Muori Il mio problema ragazzi È che non ho trovato una buona armatura Ecco Porca di una miseria Ok Andiamo La cicacite 10 Però ha sharpness incredibile Voglio vedere se fa più o meno danno Sarà interessante Ok ce l'ho fatta Allora I ticket Li voglio tenere La mystery potion Abbiamo capito che è negativa Da Fere che prima me l'ho usata addosso Quindi non le voglio tenere Grazie E poi Gli smeraldi li teniamo Che siamo ricchi E andiamo avanti Ok il microfono Già ce l'abbiamo Muori 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 Perfetto Io ho poco cose e scappo Stranissimo Aiuto Bene No un altro Freddy Ma Freddy proprio non se la fa una vita Allora Al prossimo Mob che mi capita Proviamo Grazie a batte Batte Basta Io non ce l'ho fatto Perché i mob sono sempre peggiori Di tutte le lucky race Muori che è una bomba Dov'è No vedete È meno potente È meno potente Quindi dobbiamo usare la pozione Per combattere Ok almeno lo sappiamo Signori Sono arrivato alla fine Devo far fuori il boss Guarda non so come hai fatto Calmo calmo Sono arrivata anch'io Vedo la testa di Freddy Aiuto Aiuto Oh cavolo Oh cavolo Allora Aiuto Fere Come faccio Io ho solo una spada Che fa 8 di danno Fere Allora è molto Sì Vabbè Che è successo Non lo so Mi ha squagliato Perché Allora è lentissimo Ma credo che se ci colpisce Ci fa one shot Vero Buongiorno Però io almeno Non riesco a entrare Mi sta camperando Ma se mangio una mela d'oro Posso andare alla carica Ok Vado No Ho mangiato una mela di Freddy Stai bene Non avevo il checkpoint Non so come fare Mannaggia Però fa one shot Anche se mangi la mela d'oro Oppi Ok Cioè quindi è totalmente rotto Devi colpire la distanza Non ci arrivo neanche Mi campera all'ingresso Capisci Sta fermo lì Quindi appena entro Vediamo così Ecco dal lato Lui non riesce a colpirmi Io lo colpisco Sì vabbè Ma li togli troppo a poco Certo non ho armi I miei non avevano armi Guarda Primo o poi Che devo dire Allora Vieni a darmi una mano Appena finisci Ti prego Quando tu sei fatta No devi vedere la situazione In cui sono Facciamo così Un colpo Ma guarda Guardate Steph I danni Guardate io Comunque funziona Steph la tecnica Che sto usando Non so come è fatta La tua testa Ho vinto Io mi incastro nei denti Ah beh è una buona strategia Ti vedi È una buona strategia Ho vinto io però Però guarda Mi preste la tua spada Steph almeno per finire Vieni qua Ti prego La vittoria Steph Ecco te il reward Lucky block Sì Anzi Sì Sei un'arma potente Vieni che lo distruggiamo Arriva Ma Steph vola un secondo Ma che Steph al ponte Abbiamo finito Hai vinto E ne sto ponteggiando Ma dai Apriamo Uuu A uso Cos'è No Steph Bellissima Ma la spada aveva la nostra calza Quanto danno fa? Allora vediamo Ma Quanto? Ah Ah vabbè 17 E c'è altro? Poteva fare Allora 1723 di danno Se proprio volevamo fare i numeri Non lo so Ci sono Le mele Che non ci servono Ti ricordi le mele Super bellissime Grande resistenza Per due minuti No Secondo ci stende lo stesso Allora Reddy vieni qui Lo picchiamo entrambi Aspetta Guarda Ti faccio vedere anche una cosa Le vedi queste? Aspetta Aspetta Se non mi metto il checkpoint Questo mi colpisce alla fine Le vedi? Ahà Sono le bombe a forma di cuore Usale Vede È quello il problema Comunque l'ho sciolto Allora hai risolto Cioè avrei dovuto fare così Avrei vinto Ma no Avrei vinto Perché sono arrivata qui insieme a te Non ci credo Non avevo capito che Scusa I Vex Non li hanno mica one shotati Porca miseria Perché ovviamente la schivavano Era molto carina la testa Le fate esplodere Comunque È un po' potente Ci fermiamo così È stato molto divertente Speriamo che il video vi sia piaciuto E ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao